ciao a tutti ragazzi è con grande ed estremo piacere che vi annuncio che è uscito mio primo cd sono veramente emozionato perché in 53 anni è il primo cd che riesco a produrre anche se in realtà nel corso di tutti questi anni di mia composizione musica ne ho fatti quattro che pian piano caricherò ho caricato il mio primo cd grazie un sito che si chiama amuse con la s di savona se qualcuno volesse andarci il free cioè è a pagamento ma vi dà la possibilità anche free di poter caricare le vostre canzoni ovviamente con qualche limite ci mancherebbe però ve le fa caricare lo carica io mi sono iscritto e ho creato un account free quindi con i limiti dovuti me lo carica dopo un mese cioè lo inserisco oggi me lo pubbliche il sito mi pubblica il mio cd dopo esattamente 30 giorni e questo è il limite è il costo da pagare per essere free e tra l'altro sempre nel free nella mia iscrizione free e comporta il fatto che non lo non lo caricherà il cd su tutte le piattaforme ma che sono penso una trentina quelle a cui è agganciato questo sito amuse ma me l'ha caricato su 13 14 circa la metà che comunque direi non è assolutamente poco quindi su itunes lo trovate addirittura è a pagamento perché su itunes tutto a pagamento su spotify potete ascoltarmi anche free penso se avete spotify cercate ovviamente gilberto poma e quando trovate gilberto poma cliccate sopra il cd si chiama the last straw l'ultima goccia tradotto in italiano io non mi resta altro che dirvi buon ascolto siete se avete voglia e ci andate ad ascoltarmi ovviamente non smetterà non smetterò mai di ringraziarvi con tutto il cuore è per me è un grande orgoglio dirvelo se volete andatemi ascoltare ok ciao a tutti e alla prossima ragazzi